Oh, vai per lì, ragazzi. Allora? E lui è il pello. Fa lui per la fisionomia e lui non scappa nulla, eh? E lui è il pello. E lui, ma aspetta che gli si fanno giù. Si giù? No, giù. Lui è il pello. Saluto. E questi ce li trovo, questi ce li trovo subito, guarda. Ti faccio una bella panoramica, guarda che no. Guarda che no, guarda che no, guarda che topa, guarda che topa questa. Grande Maurizio, guarda. Panoramica, panoramica, panoramica. No, metti, si rompe l'obiettivo, dai. Ora però basta, hai te rotto il cazzo. E lei è niente, ti ha fermato la tua gana, no? Guarda, hai anche il culo di fare la risatina, guarda. Guarda, guarda. Allora, come stai? Tutto meglio? Vittorio 7, eh? Te, te, stronzetto, stronzetto. Guarda, guarda che faccio. Come si fai, lì? Dai, lì, lì. No, no, come stai? Eh? Ma si può vedere? Guarda che sia di Viareggio. Viareggio, Viareggio è proprio finita. Viareggio, a me ovo. Macchina maschi, macchina maschi. Guarda qui, la talebana. Perché io mi sono accorgito che ce l'ho bianca, vieni. Allora, lì. Ragazzi, si comincia a me quasi 50 anni. Vabbè è pezzente questo qui. Vabbè è pezzente. No, fine. Anca, la imbanca te. Sì, sì, aspetta che scendo. Tra l'interesse che fa. Tra l'altro. Insomma, dicevo, lì che reggio. Ho tenuta male. Ho tenuta male. Oh, yeah. Toristi. Ho tenuto male. Già che il barocchino mi spazia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.